Questa è quella di prima, ma aggiungo solo un pochino di iodio, semplicemente qualche goccia di iodio, tintura di iodio, quella che non usiamo più quando ci facciamo male. Allora, versando la tintura di iodio sul negativo, andiamo di nuovo a trasformare l'argento metallico in ioduro d'argento, questo torna sensibile alla luce. Mi metti un po' la qua di stiglato qui sopra? Sì. Allora, i tempi non ce lo commettono, ma avremo bisogno di lavarla molto bene per togliere il calcareo. Con la tintura di iodio ci rendiamo già conto come… Risponiamo solo alla luce, si impressioneranno solo però le fargi argentate che già erano presenti. Ah, è giù questo amore? Sì. eh, qui… Vedi che… Non c'è una quantità che… Vieni… Vieni che non… Non è bene… Vieni che… Non altro… Non so che… Vieni che… Ma, ripeto… In questo tipo di fotografia uno la fa, la rifà… Grazie.